Nicolo Sola, nuova stagione per te con la maglia del Ciliverghe, quanto sei felice di proseguire questa avventura col giallo-blu? Sono molto felice perché mi è stata confermata la fiducia e spero di fare di tutto per ripagarla al meglio E' uno dei punti fermi, subito richiesto anche da Carobbio e dal direttore Facchinetti, c'è molta stima nei tuoi confronti nonostante magari quest'anno le apparizioni dal primo minuto siano state poche Sì, li ringrazio per questa stima, sono molto contento di essere qua ancora per quest'anno, è un grande mister e nonostante abbia fatto poche partite da titolare però io mi sono sempre fatto trovare pronto e comunque la fiducia l'ho sempre sentita Ecco, un Ciliverghe ambizioso per la prossima stagione dopo un'annata travagliata, definiamola così, i primi sei mesi difficili, i secondi sei mesi esaltanti quasi da un rullino di marcia per i play-off, non ci saranno più da ripetere determinati errori commessi l'anno scorso ci sono basi importanti ora Sì, ci sono basi importanti, sappiamo gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso e faremo di tutto per non ripeterli dall'inizio cercheremo di fare del nostro meglio per raggiungere i nostri obiettivi anche quest'anno Obiettivo tuo personale per la prossima stagione? Cercare sicuramente di fare un po' di partite, magari segnare anche qualche gol Grazie, in bocca a lui Grazie a voi Grazie a voi